Il capo di Stato Maggiore della Marina, Miraglio di Squadra, Walter Girardelli, ha espresso vicinanza e profondo cordoglio alla famiglia del sottufficiale che ha perso la vita nell'incidente di volo corso all'elicottero SH-212 di nave Borsini, unità della Marina Militare impegnata nell'operazione Mare Sicuro. Il sottufficiale che ha perso la vita si chiamava Andrea Fazio ed era un capo di prima classe esperto e apprezzato operatore di volo del secondo gruppo elicotteri di stanza a Catania, con una solida preparazione professionale e una vasta esperienza sugli elicotteri della Marina Militare. L'elicottero è caduto in mare a breve distanza da nave Borsini in fase di appontaggio notturno a termine di una missione addestrativa programmata in assetto con visori notturni in iVision Gogols NVG, esercitazione anche a favore di due tiratori scelti della Brigata Marina San Marco. Le missioni NVG sono missioni complesse, specialmente se fatte di notte su mare, superficie questa che dà pochi riferimenti visivi. Appena ammarato l'elicottero si è rovesciato su un fianco, i due piloti e i due operatori del San Marco sono riusciti a trarsi fuori dall'elicottero, mentre il maresciallo Fazio è stato recuperato all'interno dell'abitacolo dagli operatori subacquei di nave Borsini prontamente accorsi. I due piloti e i due fucilieri di Marina sono in buone condizioni ma sotto shock e sono stati seguiti dai sanitari di bordo. Alle prime luci dell'alba si è perso il contatto visivo con l'elicottero e con i galleggianti a cui era stato assicurato. Lo stesso potrebbe essersi inabissato anche a causa delle cattive condizioni meteo che insistono sull'area. Sul luogo dell'incidente sono convenute altre unità della Marina Militare mentre nave Borsini ha fatto rientro del porto di Augusta. Avvertiti nella serata di ieri i familiari, il padre, la madre e i fratelli ad Augusta. Sulle cause dell'incidente è in corso una inchiesta interna e anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo. Andrea Fazio era partito da dieci giorni per la missione nel canale di Sicilia, era attivo nella Croce Rossa di Augusta, amante del volo e dei libri. Migliaia di messaggi di cordoglio sui social dai marinai colleghi di tutta Italia, specialmente quelli di Taranto e Grottaglie dove era conosciuto e stimato. Grazie a tutti.